A Termo gli inquilini Ater di Via Damoli 48 sono disperati. I residenti della palazzina, che ospita 32 famiglie, pochi giorni fa hanno riavuto le chiavi degli appartamenti, ma le cui condizioni però non consentono un immediato rientro. È un caos totale, è distrutto tutto. Cioè, queste non sono le condizioni di riconsegnare le chiavi. Cioè, la ditta, non so se è venuta a fare i lavori o hanno peggiorato. Cioè, noi quando siamo usciti da queste case non erano in queste condizioni. Il terremoto è venuto dopo, quando sono entrati loro. Cioè, non hanno avuto il rispetto dei mobili, delle persone che devono rientrare in queste case. Cioè, ti danno la chiave e ti dicono potete rientrare. C'entrassero loro in queste condizioni. Io non ci rientro in uno schifo del genere. Senza acqua, senza luce, senza case, non possiamo pulire. Vorrei capire chi l'ha fatto il collaudo, perché per dare il collaudo significa che le case sono abitabili. A me non mi sembra che questi appartamenti sono abitabili. Infissi danneggiati, servizi inagibili, mattonelle saltate, fili elettrici scoperti e pendenti, ma soprattutto mobile, cucina e danneggiati a causa dei lavori fatti. Cioè, se io devo rientrare, accendere i riscaldamenti, la porta dell'entrata è rotta, le finestre non chiudono bene, alcune finestre non aprono. Cioè, accendiamo i riscaldamenti per pagare il gas, così, gratis. Hanno levato i contatori, hanno levato tutto. Cioè, chi affronta tutte queste spese? E oltretutto hanno tolto pure il gas. Perché? Perché per loro le case sono agibili. Non si può proprio abitarci. Queste sono tutte porte che non si muovono. Questa è rimasta ingrassata. In albergo pago 1100 euro al mese. E il gas ce l'ha levato dal 6 novembre. Adesso mi ritrovo, la casa tutta rovinata, i mobili tutti rovinati. E non ci sono le utenze, quindi come fate pure a venire a vivere qua? Non lo so. Non me lo chiedo perché non lo so. Ovviamente ci vorrà del tempo perché bisognerà fare altri lavori dentro casa. Come no? Dove vado? Lei verrebbe qui? Neanche io. Neanche io, perché non so come muovermi. Il problema è che se non torna qui dovrà continuare a pagare un affitto. Non solo l'affitto, ma devo pagare anche tutti i danni che mi hanno fatto. Dopo sette anni riconsegnare gli appartamenti in questo stato dove mattonelle alzate, mobili buttati alla rinfusa dentro, sembra che ci è passato un branco di cinghiali, in tutti gli appartamenti, non in uno, in tutti gli appartamenti, mi sembra strano, molto strano. Dal canto suo l'Ater ha chiesto alle famiglie, come concordato nella riunione di martedì, di preparare una scheda con i danni riscontrati in ogni singolo appartamento e inviarla all'azienda. Una sorta di lista che servirà per svolgere verifiche puntuali e avviare eventuali interventi di sistemazione.